La polemica non è nuova nella casa del GFVIP. Infatti, in ogni edizione il pubblico cerca sospettosamente di capire chi potrebbe essere il concorrente ad essersi trattenuto lo smartphone. Certo che i geffini sono stati davvero bravissimi a non farsi beccare per ben 5 mesi, almeno fino a stanotte. Proprio prima che si spegnessero le luci e che i vipponi si coricassero, è andato in onda qualcosa di incredibile. Il video diventa virale anche a notte inoltrata e sbugiarda la concorrente. Colpevole di aver nascosto il cellulare e si vede proprio tutto, tanto che il pubblico insorge. Ci stanno prendendo per il culo. Cosa è successo tra le due vippone? La sorge ha chiesto che ora fosse e Lulu ha prontamente risposto, facendo un gesto molto sospetto. Il suo sguardo furtivo verso le telecamere è ciò che ha colpito gli spettatori, che si rivoltano in massa e dichiarano che smetteranno di guardare il reality. Staremo a vedere cosa accadrà stasera e se Alfonso Signorini chiederà spiegazioni alla principessa Selassie.